Siamo qui con me e Monica Bettere del San Marco Cologno, oggi è arrivata un'altra sconfitta L'ennesima, però questa squadra comunque combatte sempre Sì, stasera ci abbiamo tirato tutti del solito, abbiamo sbagliato qualche palla in più Però un passo dopo l'altro stiamo crescendo e possiamo fare molto meglio Soprattutto nel primo set si è notato comunque molti problemi in ricezione Soprattutto su battuta, ti chiedo se questo è l'aspetto da migliorare Che mi può permettere di giocarmela alla pari anche con altre squadre Sì, sicuramente dobbiamo migliorare la ricezione che è fondamentale della palla a volo E una volta migliorato quello secondo me possiamo fare tanto Lo scorso anno il San Marco Cologno si è piazzato al sesto posto in una stagione sorprendente Quest'anno un gruppo nuovo, però sembra un gruppo comunque molto compatto Ti chiedo se questo può essere il segreto per ripartire e trovare anche la prima vittura stagionale Sì, abbiamo un gruppo nuovo, ragazze tutte giovani e sì, possiamo crescere tanto E fare quello che abbiamo fatto fino all'anno scorso lo possiamo fare anche noi Nella prossima giornata Giovanni XXIII un incontro particolarmente difficile ma come sempre ci proverete Sì, sì, sicuramente con il voltello fra i denti Perfetto, grazie, è gentilissimo Sì, 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 sì Sì, 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 sì